Ok, buongiorno ragazzi, oggi siamo nel Lazio, zona Roma, zona Roma insomma, siamo più o meno un centinaio di chilometri da Roma, Valmontone, dico bene? Ciao Silvia! Buongiorno, sì, buongiorno, ciao! Allora, Elite Style, parrucchiere e unghie, no? Oppure unghie prima e parrucchiere dopo, a seconda di cosa volete, che tipo di servizio volete fare, e siamo appunto Valmontone. La particolarità è che è un Co-Trill Center, ma ha anche una parte estetica, e appunto Silvia, che è la titolare, lei si occupa principalmente della parte estetica, ma poi parliamo anche con le sue collaboratrici, abbiamo Giulia, abbiamo Martina, entriamo nel salone. Allora Silvia, come stai? Bene, un po' emozionata. Un po' emozionata, ma dai, sei impeccabile con dietro Cecilia, e quindi dai, sei super in forma, bellissimi capelli, trucco impeccabile. Allora, come mai questa scelta di fare un salone trucchiere e anche unghie? Per dare la possibilità alle clienti di ottimizzare anche i tempi, una cosa che facciamo molto spesso è unghie e capelli insieme, quindi mentre fanno le unghie possono stare in posa con il colore, e visto che la vita è molto frenetica ultimamente, a tante donne piace questa possibilità. Con un'ora e mezza fanno tutto e sono pronte. Questa cosa è molto carina, intanto io sto, faccio vedere anche la tua pagina qua, abbiamo unghie di tutti i tipi, no? Cioè da quelle più estrose a quelle anche più classiche o altre cose. Quindi il servizio può essere svolto in contemporanea, quindi mentre una persona sta facendo un colore, un blayage, ha in posa la deco o quant'altro, un ristrutturante, voi fate il servizio di unghie. Esatto, sì. Ok, cosa chiedono di più normalmente da voi come tipo di unghie? O che tipo di servizio ti fate? Fatti solo ristrutturazione, UV, gel? Noi facciamo tutto, dalla semplice manicure al servizio più leggero che può essere un semi permanente, fino a una ricostruzione, quindi a un allungamento, e alcune magari anche con una forma un pochino più estrema, come la foto che abbiamo visto. Ok, e poi abbiamo il classico rosso intramontabile che... Rosso intramontabile. Ecco, e che differenti ci sono tra scegliere un tipo di servizio o un altro nelle unghie, no? Semi permanente, permanente, come manutenzione, sai quelle cose che le donne chiedono sempre. Esatto, dipende molto dall'uso che la donna fa delle mani, quindi quanto le cura e quanto è attenta a mettere i guanti e queste cose qui sono fondamentali. Quindi anche per loro, come dal parrucchiere, no? Indipendentemente da quello che chiedono, poi devono avere uno stile di vita compatibile con il servizio che hanno chiesto. A casa è importante farle bravi. Però anche per loro a casa c'è un tipo di, diciamo, dei tipi di trattamenti, tipi di prodotti dedicati alla manutenzione delle unghie o non devono fare nulla di particolare, a parte stare attente? No, non devono fare nulla di particolare. Ecco, noi raccomandiamo sempre il guanto quando si trattano dei detersivi, ma non soltanto per le unghie, ma cerchiamo anche di andare oltre, quindi la cura proprio della pelle. Quindi, indipendentemente dal fatto che si possano rovinare le unghie, è proprio indicato mettere il guanto per proteggere la pelle. Ok. Ci sono particolari problemi con le tastiere del computer o cose di questo tipo, oppure no? Nessuna particolare attenzione da fare questo? Allora, con il computer sì, perché un'unghia lunga poi sbagli a scrivere e anche la sollecitazione che si fa può rovinare, quindi si predilige un'unghia corta. Per il telefonino no, si usa il polpastrello. E si va via. Ok. Ecco, nel caso ci fosse una piccola imperfezione dovuta a un danneggiamento, si può riprendere il lavoro o bisogna rifarlo totalmente? Certo, certo. Poi dipende dal danno, però noi le riparazioni sono all'ordine del giorno. Le facciamo tranquillamente, dieci minuti, la cliente viene e si stena allunghia, non c'è problema. Adesso vogliamo parlare un po' anche con Giulia, che è la persona che si occupa dei capelli, di coccolare le clienti, come i prodotti potri sanno fare. Ok, abbiamo qui adesso Giulia, che si occupa dei capelli, ragazzi, bellissima. Buongiorno. Con un Bob, stile Sassoon, una frangetta modello Valentina, cioè complimenti. Grazie, grazie. Allora, da quanto tempo sei in questo salone, in questo salone Cotrini? Allora, io sono qui da tre anni, praticamente da quando ho aperto. Hai sposato la filosofia del salone, in toto. Sì, 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 assolutamente, sono trovata bene, quindi è un ambiente, sì, una famiglia. Come quella di Cotrini. È piacevole, esatto, esatto. Sei venuta a Milano in Accademia da Cotrini qualche volta, non ancora? No, ancora no. Va bene, vedrai che quando vai è un posto davvero unico, a Bollate, intanto vicino a casa mia, quindi spero di trovarti presto. Intanto passo a fare qualche intervista anche lì, ci sono degli eventi di tanto. Guardiamo un po' di tuoi lavori che sono davvero top, no? Qua c'è questo Bob, raccontaci un po', oltretutto anche il colore, notevole. Sì, questo è un dorato ramato, parliamo di un biondo chiaro, dorato ramato. Allora, questa ragazza era di un sei naturale sulla radice e aveva un vecchio lavoro sulle lunghezze, quindi siamo andati a colorare con un 8,43, un ramato dorato, radici lunghezze e punte e abbiamo poi effettuato questo taglio paro, un po' agimmetrico. Molto bello. Molto sassun, diciamo, no? Per dire qualcuno di scomodare gli dèi dell'Olimpo. Ecco, cos'hai usato? Color Tech o Glow One in questo caso? Color Tech. Color Tech. Parlando di colori, Color Tech, sì, sì. Ok. Poi vedo che andando avanti ci sono anche lavori tipo questi qua, le famose schiariture, effetti baciati dal sole. Assolutamente sì, schiariture a mano libera. Vanno sempre molto, no? Sono molto gettonate dalle donne. Sì, sì, assolutamente sì. Anche perché comunque non creano schiavitù, diciamo, nel senso, essendo un lavoro sfumato, non hai l'esigenza poi di farlo una volta al mese, come magari potrebbe essere una mesh, quindi dà un effetto più naturale e dura più a lungo nel tempo. Sì, ha bisogno di meno manutenzione in assoluto. Ecco, al contrario magari di lavori così, perché chi vuole... Di lavori così, biondi, particolari, certo, che assolutamente vanno mantenuti, perché sappiamo tutti che i biondi dopo un po' magari tendono ad ingiallire, perdono il loro colore, quindi hanno bisogno di più manutenzione, magari una tonalizzazione una volta al mese. Ecco, cosa consigli appunto tu, al di là che un diceva, per forza il parrucchiere vuole che le persone vengono in salone, ma al di là di quello, ogni quanto una persona dovrebbe venire a rifarsi tonalizzare, per riprendere il colore, indipendentemente dal discorso estetico, ma proprio per un discorso di manutenzione nel tempo, qualità del capello e tutto quello che corre là. Ma, allora, parlando dei biondi, secondo me, già mantenendo con un antigiallo il capello biondo a casa, riesci ad allungare i tempi della tonalizzazione, perché bisogna vedere anche ciò che prodotti usano le clienti a casa. Noi infatti cerchiamo sempre di consigliare comunque prodotti Cotril, quando parliamo di biondi, freddi, consigliamo lo shampoo e la maschera Cotril, perché aiuta a mantenerlo già a casa, così dopo un mese, un mese e mezzo, quando noi andiamo a ridare la tonalizzazione, comunque loro non si vedono neanche di impatto diverse, perché a volte mi è capitato che vengono dopo un mese, ma sono tutta gialla, però nel senso che usiamo a casa, che prodotti usiamo a casa per questi capelli. Sì, hanno loro, a volte dicono che shampoo hai usato quello che avevo a casa. Esatto, esatto. Questa è la risposta di Cotril che dice ecco. Vero, vero. Quindi ecco, cerco sempre di consigliare anche il prodotto giusto da applicare a casa, così che dopo un mese, un mese e mezzo non tornano dicendomi, ma questi capelli… Non sono come quando sono uscita la quarta. Non sono come quando sono uscita, esatto. Sì, però diciamo un mese, un mese e mezzo, dipende anche da quanto li lavano, da con cosa li lavano. Che tipo di vita fanno e tante altre cose. Ecco, quindi c'è ragazzi, il prodotto giusto fa davvero la differenza. Fa la differenza, assolutamente. In questo mese in cui siete da sole a casa e vi vengono idee strane, come si dice, idee strane per i capelli. Se avete il prodotto corretto, quando poi ritornate dal vostro professionista, le cose sono più facili anche per lui. E il risultato che puoi raggiungere è migliore in assoluto. Non dovete stare lì. Verissimo. Giusto? E il conto ringrazia. Assolutamente. Per tutte e due, perché poi di fatto tu, per metterci più tempo inevitabilmente i costi salgono, ma non è che guadagni di più, è proprio perché devi stare più tempo a correggere. Più tempo, certo. E quindi si fa più fatica. Quindi dattigli una mano, e voi si provochieri comprando il prodotto corretto. La tendenza di quest'estate, da voi? Colori caldi, colori freddi, corti, colori diretti? Sì, colori, ma noi andiamo, colori caldi e freddi diciamo che andiamo di pari passo, nel senso c'è chi richiede il freddo più estremo e chi il ramato più acceso del mondo. Quindi diciamo che, però ecco, va molto più che altro il taglio annotato qui da noi. Va questo taglio corto. Perché ti vedono, ti vedono e ti viene voglia. Sì, è vero, è verissimo. Mi vedono, quindi, tutte così escono praticamente. Tutte quelle che passano sotto le tue grimpie, passano in termine, passano così. Ok, però ho visto che avete anche qualcuno che colora in maniera più accesa, no? E mi riferisco a Tale Martina, mi hai detto. A Tale Martina, sì, sta qui. Ok, adesso la presentiamo e così vi faccio vedere il lavoro che ha fatto anche lei su se stessa. Quindi immagino che le sue clienti, di fatto, escono come lei. Sì, in effetti sì. Martina, sì, è quella che tratta i colori un po' più particolari, più accesi, rosa. Li lasciamo tutti a lei dal momento che è rosa. Il rosa è suo. Per le clienti più spumeggianti, diciamo così. Assolutamente, sì, sì. Va bene, allora ti saluto. Te la passo allora. Ok, perfetto. Grazie. Ciao, ciao. Ok, ciao Martina. Coloratissima, spumeggiante, come abbiamo detto. Allora, tu ti occupi delle clienti più, più crazy. Dai, passami il termine. Sì, esatto. Ok, allora io sono andato a curiosare, no? E ho preso le tue foto, perché c'è la telecamera oggi che non rende giustizia, e questo qua è il lavoro. Effetto wow, come si dice. Sì, abbastanza shock. Abbastanza shock, abbastanza strong. E, tra l'altro però, visto che hai messo anche, diciamo, un componenzistica tecnica non indifferente, cioè nel senso che siamo andati a colorare soltanto una parte del capello, la parte posteriore è diversa. Raccontami tu. Allora, io partivo, diciamo, ho sempre portato i capelli colorati, ormai sono quattro anni, ho fatto tanti cambiamenti, e l'ultima volta partivo da un viola, quindi per fare questo colore ho dovuto innanzitutto decolorare, perché, diciamo, se mettiamo il fucsia sul viola non esce così forte. Quindi abbiamo decolorato solamente la parte davanti e sotto, quella dietro che è venuta più scura, abbiamo passato, diciamo, un castano freddo, per farlo così. Ok, quindi decolorazione importante, no? Sei dovuto arrivare a un livello 9, 10, qua per poter avere questo tipo di colorazione. Esatto. Ecco, tu quindi, colori diretti, no? Il colore diretto di fatto cambierà nel tempo, cioè non che, è ovvio che il colore scenderà di livello meno acceso, però questo non è, diciamo, un dramma, perché il colore ha di fatto una sua identità, giusto? Quindi le donne devono essere pronte a portare questa cosa. Eh, diciamo che è facile su molte cose e su tante altre è molto difficile, perché un colore così può cambiare colore anche in base al sole. Se, per esempio, d'estate prendiamo tanto sole, può schiarire prima. E quindi va tonalizzato molte più volte. Io, per esempio, ogni mese lo passo su. Lo devi riprendere, ecco. E poi, appunto, ragazzi, se te avvezzi a frequentare piscine, non è la scelta giusta. Esatto, no. Però, dai, sono colori che, quando scaricano, rimangono sempre sui toni molto del rosa, che a me piacciono anche. Questi toni pastello. Sì. Ok. È vero che sono colori che possono portare tutti, non soltanto dei ragazzi più giovani, perché io ho visto alcune persone, più avanti degli anni, meno giovani, che possono portare bellissimo le colorazioni dirette. Sì, sì. Infatti noi abbiamo una cliente che molto spesso fa colori dal celeste al grigio, al fucsia, diciamo che ha più o meno sui 50 anni. Non vuol dire per forza che una ragazza giovane li dovrebbe portare. Portare, esatto. Così rimanete a giovani più a lungo, portando questo tipo di colorazione. Tra l'altro le colorazioni dirette rendono i capelli molto morbidi, sono molto ricchi. Sì, perché sono più o meno maschere anche idratanti, colorate. quindi non rovinano assolutamente i capelli. Ok, ecco. A casa hai parlato di maschere idratanti. L'utilizzo magari di una maschera colorata, se uno avesse, diciamo, tutta la testa fatta con lo stesso colore, può aiutare? Sì, può aiutare a mantenere il colore vivo. Ok. Su di te invece è più complicato metterla, se bisogna avere una buona manualità. Io già mi devo fare aiutare per fare questo colore, perché passarlo magari su tutta la testa, poi lo scuro andrebbe a tonalizzare un po' su... Sì, andrebbe a compromettere anche lui, tonalizzerebbe anche lui, quindi riflessi. Lo scuro. Esatto, quindi il risultato sarebbe un po' diverso. Ok, da quanto tempo fai questo lavoro? Sono quattro anni, quattro anni, sì. E sempre hai avuto la vocazione delle colorazioni molto forti? Sì, prima ho iniziato con... portavo una base viola e le punte fucsia, poi diciamo che era un po' più complicato con la base viola, perché il viola scarica più del fucsia e va a virare sul blu. È sempre bello il blu, però a me personalmente non piace. Infatti, cioè diciamo... come posso dire... A gusto personale. Sul mio avviso, sì. Sul tuo avviso, ecco, perché poi appunto nella vostra consulenza c'è questa cosa che non è da sottovalutare, il fatto che al di là del colore che vuoi deve sposarsi con l'incarnato, con gli occhi, con la fisioneria della persona. E poi niente, diciamo che sempre sui toni del rosa fucsia sono rimasta, però partendo dal magenta, al fucsia proprio come lo porto adesso, rosa, sempre così però. Quindi sperimenti, ma giri intorno alla famiglia dei rossi. Ecco, questa è la tua caratteristica. Va bene, fantastico. Ok, ragazzi, allora l'abbiamo recuperate tutte e tre, anche se mi dicono che ce n'è un'altra di persona che però oggi non è in salone, cioè è in salone ma è occupata con una cliente che sta operando, Dico bene? Esatto. Esatto. Come si chiama? Si chiama Giulia, anche lei. Ah, Giulia, due Giulia. E lei ha dei problemi quando le chiami o quando tarrarvi con qualcuno. Ma i sovrannomi? Ah, ok, va bene. Allora, vi ho richiamato qua tutti e tre, vi ho dovuto mascherare per la vicinanza, mentre prima l'intervista era tranquilla perché eravate distanziate. Quindi ragazzi, se cercate un salone dove fanno un total look di fatto, perché fanno capelli e anche il lato unghie insieme e potete spaziare tra colorazioni, cresi oppure tagli più decisi come fa Giulia, ma quindi Giulia Martina e con Silvia che vi coccola tutte le mani, nel Lazio c'è il salone che fa per voi. Ricordiamo i vostri orari? Gli orari siamo aperti dal mattedì al sabato, dalle nove alle diciannove, orario continuato. Quindi sempre lì costantemente, poi vabbè domenica chiaramente siete chiuse. Facciamo extension ciglia, laminazione ciglia, e neale sopracciglia, che è un servizio che sta prendendo molto piede. Ok, quindi anche il viso non viene lasciato indietro, giusto? Non viene trascurato. Va bene, dai, allora Elite Style parrucchiere, unghie, Valmontone e salone che fa per voi, se cercate una coccola a 360 gradi. Ok, grazie a tutti, ciao ragazzi. Grazie, ciao. Ciao.